Giuseppe Lauria, un risultato rotondo, una bella prestazione della Torres, non ci si esalta troppo, però era importante oggi fare un buon risultato dopo tre sconfitte consecutive? No, sì, soprattutto perché venivamo da un momento negativo, quindi era importante soprattutto in casa mettere subito le cose in chiaro. Fortunatamente abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato durante la settimana e quindi un risultato positivo che sicuramente ci dà una spinta e morale per la partita di mercoledì che da domani prepareremo. Ti sei subito inserito negli schemi di questa squadra, hai esordito domenica scorsa, oggi il debutto alla Vanisana, com'è stato? Ci avevo giocato d'avversario qui, avevo dei ricordi positivi, sicuramente essere un giocatore della Torres è una responsabilità importante, spero di fare al meglio quello che il Miss mi chiederà durante le settimane, durante le partite e sicuramente usciremo da questa situazione. Hai anche rischiato di brindare a questo esordio al Vanisana con un gol, una traversa, però ti ha impedito questa gioia? Sì, sì, sono stato sfortunato, avevo fatto una scommessa con il Presidente ieri, però l'ha vinta lui, ora ce la giochiamo mercoledì. Grazie Giuseppe. Grazie.